Rientrato dopo alcuni giorni a Cafarnao, si venne a sapere che era in casa, e vi accorsero in così grande numero che non vi era più spazio nemmeno davanti alla porta, mentre egli annunciava la parola. Giunsero pure alcuni che accompagnavano un paralitico sostenuto da quattro uomini. Ma non potendo avvicinarsi a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto sul punto dove egli si trovava, e praticato un foro, calarono giù il lettuccio su cui giaceva il paralitico. Gesù allora, vedendo la loro fede, disse al paralitico. Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati. Ora vi erano là alcuni scribi che, stando seduti, pensavano nei loro cuori. Perché costui parla in tal modo? Egli bestemmia. Chi può rimettere i peccati se non Dio solo? Ma Gesù, avendo conosciuto subito nel suo spirito che così pensavano, dice loro. Perché pensate tali cose nei vostri cuori? Che è più facile? Dire al paralitico, ti sono rimessi i tuoi peccati? Oppure dire, sorgi, prendi il tuo lettuccio e cammina. Ora, affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha potestà di rimettere i peccati sulla terra, dice al paralitico, dico a te, sorgi, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa. Allora quello si alzò, prese subito il lettuccio e se ne uscì alla presenza di tutti, sì che tutti ne restarono stupefatti, e lodavano Dio dicendo, non abbiamo mai visto nulla di simile. Uscito di nuovo lungo la riva del mare, tutta la gente andava da lui ed egli la istruiva. Andando più avanti vide Levi, figlio di Alfeo, che stava seduto al banco dei gabelieri, e gli disse, seguimi. E quello, alzatosi, lo seguì. Ora avvenne che mentre egli stava a tavola in casa di lui, molti pubblicani e peccatori si erano seduti insieme a Gesù e ai suoi discepoli, giacché erano molti quelli che lo seguivano. Gli iscrivi dei farisei, vedendo che egli mangiava assieme ai peccatori e ai pubblicani, dicevano ai suoi discepoli, perché mangia assieme ai pubblicani e ai peccatori? Ma egli, udito ciò, rispose loro, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma gli ammalati. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. In quel tempo i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Allora vengono alcuni e gli dicono, perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano. Rispose loro Gesù, possono forse gli invitati a nozze digiunare mentre lo sposo è ancora con loro? Per tutto il tempo che hanno lo sposo con loro non possono digiunare. Verrà il tempo, tuttavia, in cui lo sposo sarà loro tolto via, e allora in quel giorno digiuneranno. Nessuno cuce una toppa di panno grezzo su un vestito vecchio. Altrimenti il panno nuovo che è stato aggiunto rompe quello vecchio e lo strappo diventa peggiore. Similmente nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, ma vino nuovo in otri nuovi. Altrimenti il vino fa scoppiare gli otri, e così si perdono e vino e otri. Ora, mentre egli di sabato passava attraverso i campi seminati, i suoi discepoli durante il cammino si misero a raccogliere le spighe. I farisei perciò gli dissero, guarda, perché fanno ciò che di sabato non è lecito? Rispose loro, non avete mai letto ciò che fece Davide quando si trovò nel bisogno e tanto lui quanto i suoi compagni avevano fame? Come cioè al tempo del sommo sacerdote Abiatar entrò nella casa di Dio e mangiò i pani sacri, che non possono mangiare se non i sacerdoti, e ne diede pure ai suoi compagni? E diceva loro, il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Pertanto il figlio dell'uomo è padrone anche del sabato.